Guarda, sta cosa che nei Resident Evil non si può saltare, no? Tipo, è veramente fastidiosa perché tu dici voglio vederla quell'area, un essere umano non può saltare questa trave? No! In compenso siamo un agente delle forze mega speciali, probabilmente tipo mercenarie, che sta affrontando delle minacce sovrannaturali. Però una trave già mai, mai nella vita. Grazie.